Garantire una gestione sostenibile ed innovativa delle risorse idriche è l'obiettivo del nuovo piano degli investimenti 2024-2029 di Pavia Acque per migliorare l'infrastruttura idrica. Il nostro obiettivo primario è quello di completare le opere in corso, migliorare la qualità del servizio e la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Sono previsti 136 interventi per un totale di investimenti pari a 178 milioni di euro suddivisi in diverse priorità a partire dall'infrazione comunitaria, quindi la risoluzione da parte di Pavia Acque delle criticità relative alla normativa comunitaria vigente, alla riduzione dell'inquinamento delle acque e al potenziamento della resilienza del sistema acquedottistico. Particolare attenzione sarà data da parte della società anche al riassetto delle fognature, alla dismissione delle condotte in cemento ambianto, un intervento che rappresenta un impegno concreto da parte della nostra società nella sostenibilità e per la salute pubblica. Investimenti che gravano il meno possibile sulla tariffa. Ato, in sinergia con Pavia Acque, applica da anni incrementi minimi. La sostenibilità è un argomento che sta diventando sempre più importante per noi e sempre è stato la sostenibilità ambientale della nostra attività, è l'oggetto del nostro lavoro. Noi lavoriamo per ridurre l'impatto ambientale che il servizio idrico induce sull'ambiente, in particolare con la depurazione. Adesso stiamo ragionando di sostenibilità in senso lato, quindi non solo quella ambientale ma tutta la sostenibilità della nostra azione sull'ambiente, sulle persone, sulla società, sul territorio e sull'economia. Gli investimenti avranno un impatto significativo su diverse aree della provincia, migliorando qualità del servizio e resilienza delle infrastrutture. Gli interventi sono equamente suddivisi sull'intera provincia di Pavia, ma alcune aree beneficiranno di maggiore attenzione in quanto hanno preso maggiori finanziamenti da parte del PNRR. Inoltre po' Pavese verranno realizzati 37 milioni di investimenti, in Lomellina 24 milioni di investimenti. Nel Pavese, in particolare nel comune di Pavia, verrà realizzato il nuovo depuratore in area Cassinino, che servirà non solo alcune aree del quartiere della città di Pavia, ma anche i comuni cintura di capoluogo. Coprirà circa 37 mila abitanti per un investimento pari a 17 milioni di euro. Verranno realizzati anche una serie di progetti sovraterritoriali, come il telecontrollo e il cambio dei contatori vecchi con i contatori smart, che consentiranno di migliorare la gestione delle reti e ridurre le perdite idriche. La sostenibilità è ormai parte integrante del piano di investimenti e rappresenta una linea guida di Pavia Acque. Stiamo anche degli investimenti operando per garantire una maggiore sostenibilità del servizio, in questo caso acuendo la qualità ecologica delle opere che realizziamo, puntando a realizzarle in condizioni di minore impatto possibile e cercando di analizzare non solo l'opera presa singolarmente, considerata nella sua singolarità, ma anche l'effetto del complesso e dell'impatto che noi generiamo quando realizziamo un'opera rispetto alle opere che già ci sono sull'ambiente circostante.